Benvenuti al Pala Energica, Paolo Ferraris, questa è Bertram, Dertona Tortona, Givova Scafati. Comincia Bertram contro Scafati. Wims mette a posto e finisce sulla rimessa. Gentile, fine in fondo. Gentile attacca di mano sinistra, l'estero, centro area, palla complicata per Gamble che comunque la va a prendere Rossato. Vai, vai, poi tira da tre punti. Capitano Rossato, primi tre. Baldasso ci pensa, poi spara da tre punti. Da oltre l'arco, segna un masso Baldasso. Rossatine dietro, Logan poi attacca fino in fondo. Sbaglia, è la cosa più semplice con il mio Rossato, alla fine gli ritorna la palla nelle mani. Baldasso, uno su due, due su due, tre su tre. Semerini, consigliato per Candy che torna subito da Baldasso. Blocco di Zerini, palleggia, respira, tre punti ancora con Marco Baldasso. Capitano, dieci secondi per questo attacco. Candy esce, ci pensa McDorni, Semerini, che va su. Adesso Tortona non si ferma più, 24 a 9. Gamble, ancora contro Zerini. Ottima difesa, c'è il numero zero. Gamble fa un canestrone. Passaggio pigro di Rossi, allora Robinson ringrazia e ne fa due. Palla in mano a Tortona. Semerini, a centro area, si chiude Noir, fuori Radosovic, extra pass per Baldasso. Oh, non sbaglia più. Attacca ora Rossi dentro per Radosovic. Siamo partiti subito abbastanza forti. Ci siamo permesso di creare un buon vantaggio. Dovremmo continuare così anche il secondo tempo. Non mancano otto secondi, rimane Pini contro il numero quattro bianco nero. Semerini, ce ne spara senza pensarci. Robinson, molto stretto, a fermare il palleggio. Semerini pressione su Gentile. La fine arriva Obasso anche la alza per Radosovic. E questa la rivedremo per un po' di tempo. Gamble fa sportellati, si butta lì indietro. Gamble non può stare dietro al numero quattro che cambia velocità. Colby Rossi. C'è una Baldasso di giocare con calma. Wims invece di calma. Non ne vuole sentir parlare. Kyle Wims. Cavaliere Gentile. Cerra a doppia. E allora la palla subito per il 5. Segna Gamble. Fallo di Kandy che arriva in aiuto. Baldasso. Per attaccare Riva, il tiro è difficile. Rival d'assist è back. Logan è fino in fondo. Terini rimane con lui. E lo stoppa. Ha due mani. Kandy ne ha appena sbagliata una ma vuole segnare e lo fa. Tutto in piedi. Il pala energica si vanno già a salutare. Finisce qui. Dordona. 89. Scaffati. 52. Penso sia una prova importante la nostra. Ci serviva una vittoria. Una vittoria di campionato. Ci serviva a giocare una buona partita. Una partita solida. E niente l'abbiamo fatto. Quindi siamo molto contenti. E niente l'abbiamo fatto. Ciao. Ciao.